Dal 7 maggio in Abruzzo potrebbero esserci zero nuovi contagi e ciò che emerge da uno studio dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni, diretto da Walter Ricciardi, basandosi sui dati della protezione civile. Questi modelli statistici però sono regressivi e non lineari e non sono epidemiologici. Non tiene conto, e loro dicono esplicitamente, dei parametri dei modelli epidemiologici che sono l'R0, quindi il tasso di contagio, cioè il rapporto tra contagiati e trasmissione e non tiene conto della popolazione, quindi delle persone che sono effettivamente esposte e di quelle che si possono contagiare, che sono le persone che non si sono già contagiate precedentemente e il rapporto alla popolazione totale. Quindi i modelli epidemiologici di solito vengono utilizzati per stimare l'R0. L'R0 è il numero di riproduzione di base, ovvero quello delle infezioni secondarie prodotto mediamente da ogni individuo positivo. Se l'R0 è inferiore a 1, quindi l'epidemia può essere contenuta. Ma questo è dato dalla risposta che il sistema sanitario riesce a opporre all'emergenza, tramite tamponi, posti letto negli ospedali e l'isolamento di eventuali focolai di ritorno. Lo studio infatti non dice che dal 7 maggio non ci saranno nuovi contagi, ma solamente che è inverosimile che questo traguardo possa essere raggiunto prima della data annunciata. Questi modelli dovrebbero indicarci i rischi ai quali stiamo andando incontro nella fase 2, non permetterci paura e non farci uscire più di casa, perché naturalmente non possiamo andare avanti in questo modo all'infinito, né noi come persone né ovviamente tutto il tessuto produttivo della regione italiano. Già un mese fa uno studio dell'Enaudi Institute aveva annunciato che quota zero nuovi contagi sarebbe stata raggiunta l'11 aprile. Ovviamente però non è possibile considerare tutti i fattori accidentali, come ad esempio eventuali contagi familiari, e quindi le stime volte al futuro devono essere, come si suol dire, colte con le pinze. C'è differenza insomma tra il constatare l'andamento attuale dell'epidemia e il fare previsioni. Non è che il 7 maggio è il giorno in cui non ci saranno più, è improbabile che prima di quel giorno stiamo a quel punto. Tra l'altro in generale io direi che sia improbabile aspettarci un contagio zero in assoluto.